Apriamo il nostro Tg con una notizia che non avremmo mai voluto dare. Con immenso dolore, il giornalismo calabrese piange oggi la scomparsa di Bruno Cirillo, grande protagonista della radio, della televisione e della carta stampata. Una giornata di lutto per la redazione di Teleionio, che ha visto Bruno collaborare per oltre 20 anni con servizi sul campo, interviste, collegamenti, conduzioni e approfondimenti. Nella sua cardinale non ha mai fatto mancare l'impegno civico, sociale e politico, facendosi apprezzare per spirito critico e iniziativa. La corrispondente della Gazzetta del Sud ha raccontato il territorio delle preserre, con la forza di chi lotta contro sopprusi e ingiustizie. E con lo stesso spirito era stato tra i fondatori del Comitato della Trasversale delle Serre. Nei lunghi anni, in cui ha dedicato la sua vita al giornalismo, non ha mai abbandonato il suo primo grande amore, la radio. Oggi tutti lo piangiamo per la perdita immensa e il vuoto enorme che lascia nelle nostre comunità e nella sua famiglia. Negli ultimi mesi ha lottato come un leone contro il male che lo stava divorando, lasciando anche in questo un esempio di vita a tutti noi. Ai suoi cari, alla sua amata moglie, al figlio, va tutta la vicinanza e l'affetto della nostra emittente. La proprietà, la direzione, la redazione, i tecnici, tutti coloro i quali hanno vissuto con Bruno, fianco a fianco, giornate di passione e lavoro. Addio Bruno, sei tra i giusti a godere il bene che hai dato nella tua vita terrena. Grazie. Grazie.